Sandro Spinozzi, allenatore in seconda della Delfino Curi, un primo tempo praticamente perfetto, poi nella ripresa che cosa è successo? Avete sofferto un po' però alla fine avete portato a casa tre punti meritati. Beh, cosa è successo? Niente di strano, giocavamo contro il Lanciano che è un'ottima squadra, forse lo strano era che noi abbiamo fatto un grossissimo primo tempo che non abbiamo dato modo a loro di reagire e forse meritavamo anche più di tre gol di scarto che c'erano a fine primo tempo. Il Lanciano giustamente ha avuto una reazione e siamo stati bravi a mantenere il risultato. La vittoria odierna a chi la volete dedicare? Giusto così proprio al presidente Quinto Paluzzi che è a casa col Covid e sicuramente i ragazzi hanno dedicato a lui questa vittoria. Mattia Di Giovanni, allenatore in seconda del Lanciano, primo tempo il Lanciano non è entrato in campo, poi nella ripresa avete avuto una buona reazione, un ottimo approccio, però alla fine non è bastato per riequilibrare questo risultato. Sì, purtroppo i primi 15 minuti non siamo entrati in partita, abbiamo subito tre gol, due di questi in fotocopia, che ha sicuramente condizionato la partita. Guardando il bicchiere mezzo pieno c'è da vedere la prestazione della squadra, la reazione d'orgoglio che ha avuta. Magari per quello che si è visto nel secondo tempo avremmo meritato più di questa sconfitta. Abbiamo avuto diverse occasioni per parigiarla, però purtroppo non è bastato. Sicuramente ci sarà ancora da lavorare e pedalare per cercare di aggiustare la classifica e sicuramente riportare in alto questa squadra.